ciao amici e amiche mitici allora hard easy vai di easy mico mio quattro fortuna it allora non c'è italia non c'è italia non è che costava molto fare qualcosa però how are you break me oh mister doodle oh ah muovendo così ok andando solo in verso in basso ok lo sprint ci sta figo figo figata black to ink is your power golden ink because it interacts with characters all over granata bella lì ah bisogna prendere la come il mazza qua ah ecco infatti mi mancava questa quadra il quadrato non c'è là figo figo ok ah è così è ok ok faccio subito to keep the major enemy reward 500 ink grande 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 un mega drone però non credo che ci sia altro che figo ma normalmente questi giochi qua raga non mi trovo tantissimo ma questo è veramente fatto figo allora potrei andare su come faccio ad andare su che bello che te li ritrovi subito lì ooo porca loca una massacrata ok allora diciamo che qua ok abbiamo fatto tutto manca quello sotto è anche quello sotto ah no no bisogna andare giù qua allora small donation medium large donate with with you small coin a 171 siamo se non ho più soldi e no ego ego nooo pazzo ah sono qui ah figo ah ok l'ho finito eh oh si rompe dopo un po' c'è quello che ho già fatto ah 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 questo è eccellente hai fatto benissimo sei un grande il più figo del mondo FURI FAST COMIC BOOK bella 100% max combo 10 7 di 7 character 2 GORBS ah si comincia sempre da zero allora multiple enemy page will make only a chat ok oh ai 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 capito com'è Ok ah 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 small donation si queste smoodations non so allora su queste donazioni non so che cosa fanno ci sono le zanzare un boss oh che cazzo hai detto posso andare giù di qua presso r1 su sprint no cazzo no la r1 ah ah oh allora allora cazzo cross for lead basta non me lo fai far più bravo bravo ragazzi che ora non 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 No, però non c'è l'unità di non c'è l'unità di qua. Ai mio Dio! FLAVES VICTORY FLAVES VICTORY Raro, raro, raro Grande Drams Il Boss Ah, che peccato Non ho potuto prendere 500 mell'oro Uh, che cattivone Fortuna passa Orca Orca Rare, incrementa il 20% la vita Porca Incrementa Get Orbit Drop Ah, il drop Raro 2 però, eh Tutto raro Chissà Facciamo questo, dai Ah, ok Devo tornare indietro Ok forza stevan dragole allora enemy boss kill restore 3 armor ink dance disable and more edit enemy drop 2 pair more golden ink allora qui dobbiamo per forza andare giù allora qui direi giù no non dirmi che ho finito il quadro e come un coglionazzo non non ho fatto tutto no a no che è perfetto oh porca vai oh raga oh raga madonna porca no si equipaggia subito spero che non sia qualcosa di oh mio dio no la prima mia morte great hero la mia prima morte posso gravitarlo ciao facciamo 1111 ecco la limite oh cacchio oh cacchio beh non ho altro wow no no un per raro finito finito quando muori si finisce raga ah ci sta bisogna stare veramente attenti aia caramba però upgradati con degli upgrade aia caramba aia caramba aia caramba aia caramba prendiamo il quadro, prendiamo il diritto UB gradiamo UB gradiamo ok dico nulla però io volevo vedere allo sto punto che cos'era il qualcosa fichissimo che c'era qua che cosa che mi è combinato sono morto ma proprio così così tosto appena ti tocca non c'è nulla non c'è nulla porca loca allora incredibile che disastro l'ho fatto oh mio Dio no uuuh raga bella lì bella lì no ma sei serio il primo quadro era il primo era il primo non mi sono accorto sei serio ok ahi cazzo rolus 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 si ci sarebbe il rapido il rio la 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 do ok attra 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 Ok John Ma dai ma cos'è? Sconfittazzo il boss Non ci credo Si sa a livello difficile raga Ah lui lancia la bomba Che cazzo è raga Ho capito Ok 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 Oh cazzo rola No Questa arma Non mi piace tanto Come faccio a cambiare l'arma Ok 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 Dai ma sto Sbattendo via un sacco di bombe Ok 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 wow bello 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 mi piace via il piaccia è bello divertente bello frizzante figo figo fuori un lascia the place solo bella lì raga marco della sgancia vi augura una buona visione tutti gli altri giochi che porto sul canale un boxing in tante tante cose ci vediamo su twitch per le live sempre marco drums games cercatevi come marco drums games marco drums games su youtube qui mettete mi piace commentate iscrivetevi al canale se vi piace i miei video e dei contenuti e poi sono anche su facebook su twitter su instagram su we chat su discord ok ragazzi seguitemi dappertutto ciao alla prossima